Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un nuovo Airdrop, oggi torniamo nuovamente sull'ecosistema di Injective, andremo a scoprire un altro progetto che ha confermato tra l'altro l'Airdrop con delle specifiche ben precise. Se questa tipologia di video vi piacciono ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Bene, passiamo subito a schermo e capiamo di che progetto si tratta e quali passaggi dover fare. Eccoci su Black Panther che è un altro progetto che ha sviluppato direttamente sulla rete di Injective e possiamo testarlo per poter essere elegibili per il loro Airdrop come vediamo qua. Quindi in questo caso dovremo andare a creare dei volumi all'interno di Black Panther. Come per altri progetti che abbiamo già visto e affrontato, quello che dobbiamo fare è andare prima di tutto, connettere ovviamente il nostro wallet e dobbiamo depositare fondi all'interno. Quindi 0.2 faccio per esempio, faccio un deposit, ok, into IngeUSDT, quindi andiamo a fare lo swap, paghiamo le nostre fees, come sempre, che fortunatamente in questo caso su Injective sono davvero molto 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 basse rispetto ad altre chain come anche gli stessi layer 2 comunque semplicemente, qua abbiamo ad esempio questo qua un 0.05 quindi abbiamo davvero fees completamente ridicole come lo sono anche per Solana sostanzialmente. Bene, abbiamo depositato quindi abbiamo depositato con successo 0.2 Inge in questo caso dentro al Grid Trading Vault, adesso vediamo un po' se ci si apre la nostra posizione, dashboard, eccola qua, ok, quindi noi abbiamo in questo caso IngeUSDT Grid Trading messo direttamente con vabbè 3.83 di asset e value. In questo caso possiamo poi andarli a fare il manage, quindi vedere un po' come si muove e specialmente anche come sono posizionati, in questo caso abbiamo il withdraw, quindi noi possiamo fare tranquillamente il nostro withdraw di, vabbè, in questo caso 2.561 IngeUSDT come vault token che possiamo appunto andare a riprendere. Qua dice We charge 1% withdrawal fee, quindi quando voi andrete a riprendere, se vorrete appunto, loro appliceranno una percentuale di fees per riscattare appunto questa movimentazione. Quindi facendo questo noi possiamo andare appunto a vedere e elaborare comunque un ritorno dagli Inge messi in fees, in lavorazione all'interno, questo ci garantirà poi dei punteggi, adesso vediamo un po', non dovrei avere niente, infatti 0 token point da questo punto di vista, potremo andare a fare degli swap se abbiamo bisogno di swap su Elix o Astroport e possiamo fare anche dei bridge, quindi qua Injective Bridge Token, in questo caso noi possiamo poi scambiare e fare bridge da varie e diverse chain, in questo caso abbiamo ad esempio Cosmos, abbiamo, se non sbaglio, ci sono delle altre reti come addirittura anche Arbitrum, quindi possiamo farla molto semplicemente e adesso vabbè non carica, eccolo qua, eccoci, ok, Arbitrum, Celestia, Cosmos, Etirium, insomma ne abbiamo davvero la qualunque e anche la stessa comunque Solana, quindi possiamo muoverci benissimo e tra l'altro le fees sono praticamente nulle anche sul bridge, quindi altrettanto comunque vantaggiosi da questo punto di vista. Quindi poi fatto questo, una volta che poi accumuleremo comunque i token, distribuiranno appunto i point token per l'injective mainnet to incentivize our user participation, point darà comunque l'unlock rewards quando lanceranno ovviamente il token black ovviamente. Le reward points sono quelli per interagire all'interno dei vari vault in base a quello che poi noi si vuole andare a depositare. In questo caso con lo stake possiamo fare anche max, quindi fare un altro stake, vediamo un po' se ce lo prende per ottimizzare, quindi sempre fees davvero ridicole, perfetto, claim rewards, adesso non abbiamo i claimable rewards, quindi qua mettiamo all'interno un tot e facciamo il claim dei point in questo caso, che noi ovviamente non abbiamo perché siamo appena partiti con questo determinato profilo. Quindi ecco, si possono fare svariate cose, se avete comunque degli hinge che holdate, diciamo che metterli qua dentro per un ritorno tramite black panther in questo caso potrebbe essere ottimale e quindi avere un ritorno ottimale sia dal punto di vista del API che abbiamo all'interno qua, qua c'è un API di 7 giorni 50%, API dei 30, 62%, quindi diciamo che è comunque interessante da questo punto di vista. l'unica cosa che poi dovremmo ricordarci di fare il claim delle rewards. Successivamente dovremo andare su validator e scegliere cosa, quanto più che altro andare a depositare sullo stake di Injective. In questo caso stake che andrà portato e messo sul validatore che è proprio black panther in questo caso. Io da questo wallet mi sembra non abbia nulla depositato, ne avevo su altri due, però ecco qua cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare delegate, ok? O delegate now, come volete, quello che volete. Qua vi dice che sostanzialmente la decentralizzazione è il loro effort, quindi è una cosa importante per loro di andare a mettere gli stake da qualche altra parte. In questo caso però è un qualcosa che viene richiesto proprio da panther, quindi dobbiamo continuare a delegare su di loro. Qua dentro mettete la cifra che volete mettere, tenete conto che bene o male di solito vengono calcolate dai 100 dollari in su come delega e come deposito all'interno comunque dello stake. Perciò ecco, 100 dollari sarebbe una cifra più giusta, che mediamente hanno richiesto dai SDK, quindi tutti quei progetti costruiti tramite Cosmos. Una volta che mettete qua il vostro capitale, fate delegate e vi passa direttamente in delegazione, quindi vengono messi in stake definitivamente. Ricordate che essendo SDK per unclamare, quindi clamarli e riprenderli, dovrete aspettare mi sembra un 21 giorni, ok? Questa è una cosa che succede su tutti gli SDK, quindi su Atom, Injective, TIA ad esempio, quindi Celestia, Osmo, insomma tutti loro hanno bisogno di un 21 giorni per anstecare il proprio, la propria delegazione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progettino, ha del potenziale davvero molto 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 interessante. Bene, credito afezionati, come avevamo visto già da tempo comunque la parte di Injective è molto importante perché ci sono comunque delle movimentazioni importanti da questo punto di vista di partecipazione, ma specialmente anche proprio la PIL, quindi è un qualcosa che sta piacendo, quindi non è soltanto ovviamente un qualcosa di partecipare per, ma è un ecosistema che piano piano si sta ingrandendo sempre di più. Ci sono anche delle altre cose, come abbiamo detto, da non sottovalutare, ovvero la parte anche di NFT e anche parti a livello di meme o comunque low cap che nasceranno sull'ecosistema di Injective. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessun nuovo aero.